Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube Oggi tutorial che vado a riproporre, ovvero quello delle punizioni L'anno scorso mi sono divertito a segnarne tantissime Addirittura c'è un comando sul mio canale delle live sulla piattaforma viola E' nominabile sulla piattaforma rossa per i video Dove teniamo traccia delle punizioni che segno L'anno scorso abbiamo superato quota 100 devastanti Quest'anno siamo a buon punto Ma quest'anno gli arbi non fischiano nulla Quindi le punizioni non ce le danno E vi voglio mostrare, l'anno scorso vi mostrei una sola tecnica Quest'anno invece ve ne voglio mostrare due Per fare questo voglio andare a farvi vedere in arena queste due tecniche E in più vi vado a far vedere in partita come andare a performare questi calci di punizioni con delle clip Quindi cambio di scena Eccoci qua E ci troviamo in arena dove sapete che con le freccette possiamo ottenere i calci di punizione Allora diciamo che dividiamo il video in due parti Dai 19 ai 21 metri e dai 22 metri in poi Ok? Allora diciamo che dai 19 ai 21 metri abbiamo bisogno di un tiratore esattamente come Messi Quindi uno abile nelle punizioni con una buona precisione e soprattutto con un tiro bello preciso Non abbiamo necessità di un giocatore che abbia questo tiro così Questo tiro così forte Non vi preoccupate che non c'è la barriera perché quello che ci interessa qui è il Insomma il concetto Poi vi farò vedere che anche in partita funzionano con le clip registrate Quindi ipotizziamo di avere un calcio piazzato Ok? Da questa posizione qui Cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a mirare esattamente in alto a tutto Vedete com'è stabile? Non è che il mio dito è Robocop È semplicemente il fatto che sto mirando in alto a tutto Non può andare più sopra di così l'indicatore Poi dobbiamo caricare più o meno una tacchetta e mezza Esattamente così E fare sotto sopra E calciare Ora non state a badare il fatto che il portiere l'abbia parata Perché in arena i portieri sono tra virgolette buggati Leggono l'input del tiro e si spostano Vedete che non si è manco buttato Si è solo spostato Però è il concetto che ci importa Perché vi assicuro che in partita invece workano Quindi riimmaginiamo di posizionarci in una posizione così E io vi assicuro che questi sono dei rigori ragazzi Sono assolutamente dei rigori per me Posizionate l'indicatore lì Caricate più o meno una tacchetta e mezza Movimento sotto sopra Tiro Qui l'ho anche segnata Perché ci ho fatto il time head Infatti un'altra componente fondamentale è proprio quella di metterci il time head Se ci mettete il time head che sia verde o giallo Avete un boost incredibile per quanto riguarda la probabilità di insaccare questo calcio piazzato Guardate vi faccio rivedere Immaginiamo di essere in questa posizione Immaginiamo di andare a calciare la punizione E andiamo a fare movimento sotto sopra Timed Neanche preso All'angolino Quindi molto molto semplice ragazzi Movimento sotto sopra con l'analogico dopo aver caricato Quando ci troviamo più o meno sui Sui 21 metri Da 19 e 21 metri Quando ci troviamo invece un po' più lontani Quindi ci troviamo Che ne so Appunto dai 22 ai 23 Il movimento che dobbiamo andare a performare è un altro Dobbiamo caricare un po' di più E abbiamo bisogno magari di un calciatore che ha un po' più di potenza tiro Io infatti le tiro solitamente con Ronaldo Però dobbiamo angolare esattamente nello stesso punto Magari anche un po' più basso A seconda dei casi Andiamo a caricare un due tacche Movimento sopra sotto stavolta E calciamo Stavolta ho preso il timed giallo E l'ha tirata un po' così E inoltre Messi non ha tanto shot power Quindi la palla tende ad alzarsi E non ad andare dritta per dritta Quindi però riproviamo Per dimostrarvi Prima di farvi vedere le clip della bontà Di quello che vi sto dicendo Magari angoliamo un po' più basso Però in questo caso dovete essere estremamente precisi Eccoci qua Mirate sopra sotto Timed Eccolo qua Goal All'incrocio dei pali Proprio facile facile Senza chance per il portiere Io vi assicuro regà Che se mi masterate sta tecnica Ste punizioni per voi diventeranno dei rigori Cioè voi preferite arrivare qui e farvi fare fallo Perché per voi è molto più facile che saltare la difesa della CPU Fidatevi Cioè è veramente una tecnica per me Devastante Quest'ultima che vi ho fatto vedere del sopra sotto E non del sotto sopra Funziona in un range dai 22 fino ai 26 Ne ho segnata una con Ronaldo Ha preso una traiettoria incredibile Quando siete più lontani Vi consiglio anche un'altra cosa No Messi perché me la batti così Ok vi consiglio anche un'altra cosa Visto che l'indicatore si ingrandisce Io la miro anche qualche volta un po' fuori Perché la palla prende una traiettoria strana Tipo la potete mirare un po' più largo Esatto Poi fate sopra sotto Timed Vedete? Come la palla era andata all'angolino Qui però il portiere è stato bravo Me l'ha letta Ma solitamente si insaccano Ci sta che magari vi fa il miracolo E può capitare Però è una tecnica veramente molto molto valida Sia dai 19 a 21 che dai 22 ai 26 Quindi sotto sopra per quanto riguarda 19 a 21 Sopra sotto per quanto riguarda 21 a 26 ragazzi E niente Io vi lascio alle clip che ho registrato in partita Per questo video al momento è tutto Mi raccomando Like e commento Che mi servono sempre ragazzi Lo sapete Per aiutarmi a crescere Mettete un bel iscritto al canale Perché stiamo appunto crescendo Mi fa strapiacere che apprezzate i contenuti che vi porto Ci vediamo ogni giorno in live sulla piattaforma Viola Trovate tutte le info appunto in descrizione Vi lascio alle clip E mi raccomando fate bravi Ciao ciao Un po' forte Ah a me Si Tutta una questione di caricamento Grazie a tutti